Ciao ragazze e benvenute al solito appuntamento mensile dei preferiti del mese, ovvero i prodotti che ho utilizzato di più in questo mese. Allora, inizio subito dalle palette e vi mostro la palette di Paola P che ho utilizzato per i trucchi di tutti i giorni. L'ho utilizzata davvero tanto, soprattutto quando indosso gli occhiali, perché è un trucco naturale, insomma, mi sta meglio, perché, insomma, sono ciecate e quindi si notano di meno gli occhi piccoli con gli occhiali. E questa, insomma, è la palette di Paola P, manca quello lì, shimmer, che non ho utilizzato. E, insomma, ho utilizzato questa qui, la palette di Paola P, che vi ho fatto vedere tante e tante volte. In particolare, ho utilizzato moltissimo questo qui chiaro, con sfumato nell'angolo, il marrone, un trucco tipo pin-up sulle labbra. In questo mese non lo so perché, ho utilizzato moltissimo le tinte per labbra rosse, prugna, belle, scure, intense. E, insomma, per i trucchi di tutti i giorni, ho utilizzato quella lì, quella lì di Paola P. Per i trucchi un po' più particolari, ho utilizzato molto la palette di MUA. Questa qui è l'Undress Me Too, ovvero la copia della Nikkei 2, come si può notare. E anche questa qui, ho utilizzato molto, che è l'Undress Me Too, di MUA. Ed ho utilizzato abbastanza, come si può vedere. In particolare, questi due colori qui, e anche il grigio, l'ho utilizzato abbastanza. Come ombretti, diciamo che sono questi qui i prodotti che ho utilizzato di più. Poi vi faccio vedere il blush, ed ho utilizzato questo qui di Kiko, questo qui in crema, che era di una collezione limitata di Kiko, non mi ricordo qual è. Ed è lo 02 Rich Rose. Non so se si può ancora trovare, quando mette i saldi, solitamente Kiko caccia fuori questi prodotti, insomma, in edizione limitata, che magari non ha venduto e li trovate a prezzi stracciati. È un colore molto, molto bello, soprattutto sfumato. L'ho utilizzato davvero tanto, anche perché dura tantissimo. Potete sia tamponarlo con un blush in polvere, però vi dico la verità, non ce n'è tanto bisogno, perché dura davvero tanto, vi dura tutto più di sei ore. Io lo metto qua prima di scendere al lavoro, e mi dura fino a sera tarda, quindi è davvero un ottimo prodotto. Speriamo, insomma, che li ripropone, sia per le collezioni, insomma, per la collezione normale, sia per qualche altra collezione limitata. Ho visto quella lì nuova, che ha messo tipo il chic e tinte, una roba del genere, però non è come questo, sinceramente. Poi vi faccio vedere la rivelazione per quanto riguarda i primer, ed è questo qui della Itei Cosmetics, che è una marca americana. Vi ho postato sia la foto su Facebook, che su Instagram di questi prodotti, ma in particolar modo mi ha stupito moltissimo questo primer. In America utilizzano moltissimo i primer in gel. Infatti questo qui è proprio, come potete vedere, è liquido, è un gel trasparente che si applica sulla palpebra. Di primo impatto è abbastanza appiccicaticcio, ma questo perché lo chiama proprio Mica Shadow Sealer, cioè è un siero per la mica degli ombretti. Infatti gli ombretti aderiscono proprio alla palpebra e da lì non li smuove nessuno. Ho provato anche a sfregare il dito sopra la palpebra con gli ombretti applicati e non si muove di niente. È davvero un ottimo prodotto, me l'hanno mandato a provare con altri prodotti, infatti vi voglio dedicare un video a questa azienda perché davvero merita. È un'azienda che tratta prodotti minerali e davvero ha degli ombretti bellissimi. Ha una vasta gamba di ombretti, mi hanno mandato anche tipo dei dépliants a mostrarvi, quindi vi dedicherò un video per questi prodotti qui. Ma il prodotto che mi ha stupito di più, a parte gli ombretti che hanno una pigmentazione altissima e dei colori molto molto belli è questo primer qui perché ho anche quello della Splash Cosmetics che è sempre in gel, ma come funziona questo primer qui è davvero fantastico, merita davvero. L'ho utilizzato tantissimo perché è una sicurezza davvero, il trucco vi dura davvero tutto il giorno, intatto, preciso, qualcosa di fantastico, merita davvero. Poi vi faccio vedere le tinte che ho utilizzato di più, come vi ho detto questo mese, non so perché. A parte certo stasera, ho utilizzato moltissimo il rosso sulle labbra o il prugna dei colori belli scuri. E in particolar modo ho utilizzato questa qui di Essence che fa parte di una codollezione limitata, però molto molto simile, tende più al rosso quella degli Stay Matte, è questa tinta di Essence, cioè non so se ci siamo capite. Dato che comunque non si può trovare più, io vi consiglio di prendere gli Stay Matte perché bene o male è più o meno la stessa cosa. Questa in verità dura un poco di più anche perché io l'abbino, faccio il contorno labbra con questa matita di Essence e mi ci trovo benissimo con questa combo ed è la 10 Femme Fatale, quella lì che mi ha inviato Mara. Tra l'altro io adoro questa matita perché potete applicare anche soltanto la matita e sembra come se avete messo fantastiche le matite di Essence per labbra. Comunque io questa tinta qui se la trovate in qualche stand, abbandonata, compratela o su qualche sito perché è davvero bellissima. È un rosso aragosto, infatti voglio far notare che si è fatto quasi il vuoto perché l'ho davvero utilizzata tanto e dura una vita. Un'altra tinta che ho utilizzato tantissimo è questa qui di Maybelline, la Superstay 10 ore tint gloss che è più, anziché un rosso, è tipo un prugna, un rosso violaceo. Non mi faccio lo swatch ragazzi perché se no non si leva e deve uscire e mi rimane la chiazza sulla mano. Vi dico subito, se non sbaglio è la Strawberry, Forever Berry la 190 e anche con queste tinte qui della Maybelline mi ci trovo davvero bene, durano tanto e tra l'altro ha un ottimo profumo. Non seccano le labbra, sia questa di Essence che questa della Maybelline ve le straconsiglio e se volete provare insomma la combo questa qui è qualcosa davvero di fantastico. Non ve lo consiglio di applicare la matita su tutte le labbra, ho provato a fare anche quello, però la tinta, perché è una tinta questa qui, a differenza dei lip cream di Essence che non si sgretolano, cioè voi applicate insomma la matita su tutte le labbra e dopo ci andate a passare il lip cream. Con la tinta proprio di Essence ho notato che si sgretolano un pochettino le labbra e l'effetto è brutto, mentre per fare il contorno labbra è ottimo e dopo ci passate sopra, insomma riempite le labbra con la tinta di Essence ed è qualcosa veramente di fantastico che viene una cosa bella precisa anche perché con il rosso non si può sgarrare. Poi, altri prodotti che ho utilizzato tanto è questo correttore della Fisian Formula, in particolare il correttore cremoso, lo trovo davvero molto molto valido. Lo stick non mi piace tanto perché tende ad andare molto nelle pieghette, non mi piace particolarmente, infatti lo uso pochissimo. è abbastanza illuminante come correttore perché noto che comunque dà una bella luce al viso, però tende ad andare nelle pieghe ed è un effetto che mi dà fastidio, quindi non lo uso tantissimo lo stick, tra l'altro si è anche spezzato poverino perché ha questo packaging particolare. Sotto abbiamo il correttore cremoso e sopra quello lì stick. Questi sono gli swatch, questo è quello cremoso e questo è il liquido. sono davvero molto molto coprenti, li ho utilizzati anche per truccare delle persone e sono davvero ottimi, devo dire, il risultato mi è piaciuto moltissimo sia a me che alle clienti. E poi è inutile dire ho utilizzato tantissimo la matita di Paola P che piano piano si sta riducendo non di tanto perché queste matite qui di Paola P sono fantastiche proprio perché c'è tanto e tanto prodotto. Sto amando davvero questa qui di Paola P l'ho utilizzata anche adesso. Da questo lato qui si è un po' sciolta perché sto avendo problemi con la lentina purtroppo le lentine sono veramente una disgrazia. Comunque la sto utilizzando tantissimo è super scrivente pure per i vari trucchi che ho realizzato vi ho postato su Facebook per le le persone che ho truccato è una sicurezza davvero è troppo troppo bella e questo non è bianco qui sembra bianco in realtà è un color burro molto molto bella questa qui è la Paola P la 09 poi come ultimi prodotti abbiamo questi altri due prodotti qui che vi devo fare il video di questi prodotti perché me li hanno dati per recensirli al Cosmoprof questo qui è l'eliner in liquido della Splash Cosmetics che a differenza di quello lì a penna che ho comprato è ottimo davvero l'avevo preso perché mi piaceva il fatto che era pieno di sbrillini però noto che non si vede niente forse mettendolo di così si nota è pieno di micro glitter però una volta che lo andate ad applicare questi micro glitter non si vedono mi piace perché è facile da applicare con tutto che ha il pennellino morbido permette una linea bella precisa con tutto che io non mi trovo moltissimo con questi qui con i pennellini con il pennellino morbido ha un bellissimo colore come vedete bello intenso l'unica pecca è che i sbrillini non si notano però è davvero fantastico poi vi farò un video di tutti i prodotti che mi hanno dato da provare sia questo sia l'eyeliner che il primer loro i glitter e un ombretto mi pare che ho provato devo fare questi video così vi parlo dei vari prodotti e vi devo postare anche un sito internet che vende questi prodotti qui tedesco perché questi qui sono americani e non si trovano cioè se andate sul sito ufficiale della Splash Cosmetics è a rischio dogana mentre ho trovato un sito tedesco che potete fare un ordine di questi prodotti e quindi è senza dogana è tranquillo e potete provare questi prodotti fantastici e poi l'eyeliner la mascara che ho utilizzato di più in questo mese già ve l'avrò mostrato è questo qui della Ingrid Cosmetics che se non sbaglio potete trovare anche gli stand nella pop così ho letto su qualche blog perché non conoscevo questo marchio che se non sbaglio è polacco mi pare polacco e insomma questo mascara se non sbaglio era la novità loro che me l'hanno dato per provare ed è davvero ottimo mi piace in particolar modo lo scovolino vedete com'è fatto assomiglia moltissimo ai scovolini dei mascara giapponesi che Clio ha mostrato mi piace perché danno effetto tipo lucido alle cia sembrano davvero finte cioè ve le allunga ve le infoltisce vi dà questo effetto lucido alle cia che sembrano finte non le indurisce e si strucca via facilmente non si fa tipo crosta sulle cia è davvero buono e penso che non è neanche una marca costosa siamo sempre nei low cost vi farò vi farò sapere e vi farò vedere i vari prodotti che mi hanno dato per provare insomma questa l'ingrid cosmetics e niente ragazze questi sono i prodotti che ho utilizzato di più questo mese fatemi sapere quali sono stati i vostri prodotti io vi mando un forte bacio vi faccio vedere le unghie per chi non ha visto la foto su facebook e instagram pop pazze questa volta le ho viste su pinterest infatti ve lo consiglio moltissimo come non so se è un social network comunque mi sembra che è tipo un instagram e lì potete trovare tante foto di ragazze che postano le loro nel art i trucchi da davvero dei dispunti belli vi permette anche di seguire queste persone questa qui l'ho presa da una da un'americana che fa unghie fantastiche e insomma le ho scopiazzate lei le ha fatte a punta perché lì va molto la forma a punta però a me non piace quindi me la sono fatta sulle mie unghiette quadrate niente io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao ragazze grazie a tutti